Io penso una cosa, che noi dobbiamo chiedere che le scuole restino libere, che i positivi se ne vanno a casa. Ormai il virus è endemico. Una conferenza stampa dopo più di una settimana di silenzio per l'impegno con il Quirinale e in tre assunti il presidente Luca Zai a recupera andando dritto al punto. I dati, spiega, ci dicono che il virus è diventato endemico. Non va banalizzato, certo, ma è evidente che gli effetti clinici, grazie anche ai vaccini, non sono più gli stessi. E così aggiunge. Io sono anche estremamente convinto che se le cose continuano ad andare così, il 31 marzo bisogna porre fine a questa storia dello stato d'emergenza. Fase nuova per la quale, secondo Zai, è necessario che le regole vadano riscritte, immaginando che possano essere per sempre come avviene per l'influenza o il morbillo. Il modello, dopo verrà fuori un sacco di riflessioni per queste robe che dico, il modello che avevamo noi da piccoli, morbillo, funzioni. Se c'era un compagno di classe che si beccava il morbillo, cosa si faceva? Andava a casa tutta la scuola? Stava a casa, lui si metteva in isolamento. E dovrà accadere così. Concentrarsi sui sintomatici per cambiare i piani di sanità pubblica anche alla luce di un contact tracing non più gestibile. Su una cosa, invece, il governatore, mantenendo la linea di partito, è in disaccordo con la linea nazionale. La discriminazione tra bambini vaccinati e non. Non condivido la discriminazione nelle scuole tra vaccinati e non vaccinati. Ma ve lo dico perché se il principio è il positivo sta a casa, non è che devo andare a cercare quello che non è positivo, ma non è vaccinato, deve stare a casa anche lui. Le persone non finiamo più. Serve dunque per Zaia concentrarsi sui sintomatici. Esclude l'ipotesi di poter arrivare a vaccinare anche i bambini sotto i 5 anni. Come sembrerebbe, oltreoceano, Pfizer stia cercando di far autorizzare. Penso che a un certo punto bisognerebbe anche dire fermiamoci. Intanto, alla luce della diffusione di Omicron e degli ultimi dati sui contagi, l'ente europeo per il controllo delle malattie ha suggerito di portare da 10 a 6 giorni di isolamento per i positivi e asintomatici vaccinati. Loro ritengono, dagli studi che sono stati fatti in molti paesi, che la contagiosità dei soggetti positivi si concentri principalmente nei primi 5 giorni. E quindi questo ci aiuterebbe ad adottare le misure. Sul fronte dei vaccini sono oltre 10 milioni le dosi somministrate in Veneto, con una copertura vaccinale che ha raggiunto ormai l'88,7% della popolazione vaccinabile. Sono ancora 160 mila i veneti over 50 non vaccinati e dunque dal primo febbraio fuori legge. Per semplificare una procedura ancora faraginosa legata alle sanzioni, l'assessore alla sanità Lanzarin annuncia l'emendamento presentato in Commissione Salute, che chiede la pratica sanzonatoria salti il passaggio delle ULS, ma rimanga in capo interamente all'Agenzia delle Entrate, che autonomamente può verificare se il cittadino è in possesso o meno di esenzione dall'obbligo vaccinale per motivi di salute.